ben trovati a questa nuova puntata di working time in studio con me marisa rodriguez titolare di wargate italia ben trovata marisa ben trovata a te maria pia un abbraccio a tutti voi parliamo oggi della persona noi abbiamo parlato tante volte di questo manesimo della sicurezza sul lavoro della formazione di questo ritorno a pensare no al lavoratore come persona anche i suoi bisogni al suo benessere sul posto di lavoro e quindi ecco il titolo di questa puntata la persona materiale principale in una impresa come mai hai pensato a questo tipo perché sai che gli ala l'hanno scorso abbiamo fatto un importantissimo convegno internazionale il 28 aprile coincidendo con la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro e abbiamo voluto mettere come protagonista della sicurezza perché non può essere diversamente la persona non l'abbiamo lavorato chiamato lavoratore dipendente non l'abbiamo chiamato no abbiamo chiamato la persona la persona portatrice di una serie di valori che danno valori alla loro volta alle aziende alle imprese dove lavorano e perché questo così sia ovviamente la dobbiamo mettere al centro dell'attenzione in tutte le attività produttive ecco parliamo appunto di capitale umano no l'azienda un patrimonio ha un suo capitale sociale ha anche questo capitale umano che ha scelto perché ovviamente ogni datore di lavoro sceglie i suoi dipendenti e su cui è importante investire perché è importante investire sul capitale umano e perché oggi ci siamo resi conto finalmente che il capitale umano è quello che porta avanti gli obiettivi di un'azienda e quindi deve essere aggiornato deve essere come le macchine le mettiamo l'olio no perché non ci rino perché funzionano bene perché siano pronti a lusso il capitale umano come si fa a tenerlo aggiornato e come si fa a tenerlo motivato come si fa a farlo acquistare professionalità e come si fa a tenerlo sempre pronto e a farlo condividere gli obiettivi del datore di lavoro che in definitiva sono gli stessi obiettivi che vanno condivisi per portare avanti le aziende le iniziativi haciendali poi si fa soltanto in un solo modo formandolo curandolo informandolo adestrandolo per cui abbiamo fatto lì un riassunto come si fa a tener un capitale umano che veramente sia un capitale umano di un certo valore di un certo prezzo quando le persone che abbiamo in hacienda mostrano una habilità professionale ogni persona la assumiamo perché realizzano un certo ruolo un determinato lavoro questo è un'abilità professionale che aiuterà ovviamente a portare avanti gli obiettivi dell'azienda quindi è importantissimo anche unita una professionalità la produttività quindi anche a sapere fare le cose con professionalità nel menore tempo possibile per creare ricchezza in azienda e per fare tutto ciò ovviamente una persona motivata è una persona che vale il doppio perché una persona che rema avanti una persona che condividere obiettivi che condividere risultati in azienda una persona ovviamente alla quale bisogna tenerla formata informata e adestrata sempre insistiremo su questi argomenti quindi con la formazione solo con la formazione noi possiamo dotare ovviamente le aziende e le persone a essere importanti perché la formazione in azienda la formazione delle risorse umane è un investimento diverso agli investimenti che normalmente siamo abituati a tenere in considerazione come investimenti di natura economica che deve essere valutato in base alla redditività che si aspetta di ottenere quindi più formo le persone in funzione di una redditività se io voglio e sto facendo qualche cosa nella quale credo un obiettivo importante allora devo formare le persone perché siano in grado di darmi la mano a portare quell'obiettivo alla meta quindi a portarlo avanti a compimento. Come sottolineavi tu appunto c'è un legame strettissimo direttamente proporzionale tra la sicurezza sul lavoro e quindi la formazione e l'aggiornamento e il capitale umano di un'azienda. Sì come dicevamo la settimana scorsa no? Quale è il legame che esiste tra sicurezza sul lavoro e benessere produttivo? È totale, è totale perché? Perché la prevenzione tocca argomenti anche come la salute della persona e ovviamente la prevenzione dei rischi di natura psicosomatica si chiamano così psicosomatico perché prima di tutto una persona che è preoccupata per una determinata cosa non fa altro che fare girare la sua testa, il tuo cervello poi va a finire in qualsiasi parte dell'organismo dove è più sensibile questa persona e sommatizza un malessere. Perché sta male? Potrebbe essere semplicemente perché al mattino una persona non le ha detto il buongiorno sono persone estremamente sensibili alle quali se al mattino non le saluti perché tre sono le parole ragazzi che vi apriranno tutte le porte intanto salutare e dire buongiorno per favore è una cosa molto importante l'altra dietro al per favore e chiedere aiuto a darmi una mano e aggiungere un grazie se te l'hanno dato e aggiungere anche un mi dispiace se riconosci che hai commesso qualche bene queste sono cose scontate peccato peccato insistiremo molto invece sul comportamento in questo periodo insistiremo moltissimo sulla performance delle persone e se questo legame che c'è tra stare bene fare stare bene alle persone che stanno insieme a noi e la prevenzione la sicurezza sui luoghi di lavoro insistiremo moltissimo quindi appunto come dicevamo la valorizzazione della persona mettiamola al primo posto degli interessi aziendali come tu ci mostri in questa slide perché ecco la persona è il materiale principale di un'impresa come abbiamo titolato appunto questa puntata ovviamente tutti i dipendenti collegati in questo momento con la nostra trasmissione saranno felici di quello che hai detto loro e speriamo che facciano loro anche questa regola del per favore grazie e anche quando si chiede aiuto quando non si è in grado di fare qualcosa perché è giusto riconoscerlo laddove c'è il benessere produttivo ovviamente capiranno anche gli imprenditori che l'azienda può volare io ringrazio Marisa Rodriguez titolare di Workate Italia grazie per essere stata con noi Marisa ringrazio Maria Pia un abbraccio a tutti quanti voi e a voi do appuntamento alla prossima puntata di Working Time arrivederci grazie a tutti